gentili telespettatori voi tutti il più cordiale saluto ecco c'è questo nuovo numero di dolomiti turismo che quest'oggi va a sappada per incontrare e conoscere massimiliano stoffi ciao massimiliano buongiorno e grazie anche per aver percorso la strada e essere intervenuto qui ai nostri studi ciao buongiorno molto volentieri sono venuto allora è il dolomites retreat bio chalet partiamo un po dall'inizio nel senso se non sbaglio siete partiti con un campeggio tu e la tua famiglia avete però recuperato questo che era già un insediamento a sappada nella nella storia allora in realtà il esisteva un campeggio a sappada che noi abbiamo abbiamo gestito per qualche anno poi abbiamo costruito abbiamo iniziato io e mia moglie a costruire un un campeggio nuovo sulla sponda sinistra del fiume piave proprio a ridosso del primo ponte sul piave e sì abbiamo cominciato proprio col campeggio perché era una struttura turistica che è sapata c'era ma poi andava rinnovata insomma e quindi abbiamo abbiamo iniziato questa avventura insomma certo questa avventura ecco e adesso bio chalet gli chalet sono praticamente in sostanza delle casette quindi non propriamente un cappeggio ma delle casette attrezzate proprio con tutto diciamo così no ecco è il anzitutto un nome che rievoca ha un significato particolare è il certo è il nome di quella zona ok è un nome in sappadino quindi è tipico e significa lontano in italiano è l'albero che cresce lì ok è uno del dell'essenza insomma che crescono lì e quindi abbiamo deciso da poco di cambiare il nome e dalle proprio il nome autoctono e il che è il nome di quella zona lì che peraltro è raggiungibile non in auto a lì si arriva lì si è proprio concetto sì perché assieme poi versi nella natura e nella storia immersi nella natura sì e diciamo l'idea l'abbiamo presa abbiamo preso spunto da un villaggio di pescola si chiamava che era una sorta di malga temporanea estiva dove gli abitanti portavano il bestiame in alto e in sostanza vivevano in questo in questo posto per per qualche mese ognuno aveva il suo finile la sua baita e con questo concetto abbiamo pensato di creare questo 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 villaggio gli chalet non sono tutti uguali sono orientati anche in modo un po così casuale proprio per dare l'impressione che non siano di un unico proprietario che sia una cosa così di una di una comunità ecco e avevamo l'esigenza e la diciamo così il il fatto che all'interno della nostra struttura passa la pista da fondo casi certo e quindi abbiamo detto sfruttiamo questo aspetto e facciamo sì che le persone non ci possano accedere al villaggio con le macchine perché sarebbe anche brutto avere la macchina posteggiata vicino agli chalet chiaro e quindi abbiamo detto no facciamo il parcheggio prima e abbiamo fatto un ponticello in legno pedonale dove le persone attraversano il ponticello e passano sopra la pista da fondo in questo modo loro accedono a questo spazio dove c'è anche un laghetto c'è l'orto dove possono condiviso dove possono prendere insomma le cose che crescono e in questo posto raccolto perché poi dietro c'è un pendio e un bosco che che protegge veramente immergere le persone nella natura nella natura si c'è tra l'altro bio chalet bio che cosa lo intendiamo perché comunque ha il una grandissima percentuale di materiali rinnovabili e quindi è tutto costruito in legno in pietra abbiamo usato il marmo grigio carnico che c'è nel fiume per proprio per farsi di usare tutto quello che c'è lì noi abbiamo costruito comunque prima la reception ristorante tutto però che è costruito a mano cioè c'è tutto quindi all'interno di questo di questo villaggio quindi sono sì le unità singole e separate diciamo che abbiamo anche delle altre camere insomma abbiamo delle case mobili però alla fine è tutto tutto costruito a mano il nostro slogan è benvenuti nella nostra vita nel senso che è una struttura piccola raccolta gestita da una famiglia perché siamo io e mia moglie adesso abbiamo le piccole figlie che crescono e quindi insomma partecipano alla nostra vita lavorativa e e quindi chi viene lì è accolto da noi conosce noi si può insomma e tra l'altro un particolare mi sembra che tu stesso abbia contribuito fattivamente nella nella costruzione noi costruiamo io e mia moglie proprio abbiamo costruito da soli e la prima parte poi adesso ovviamente non si potrebbe più stare dietro coi tempi però diciamo che attivamente costruiamo insomma per cui fra quindi gli chalet poi ci ha parlato di case mobili e camere complessivamente quanti posti letto ci sono in complesso ma in questo momento abbiamo una ventina di posti letto ecco così sparpagliati anche perché poi noi ci siamo evoluti nel tempo no perché in base alle esigenze alle riflessioni che facciamo quotidianamente perché vivendo un'attività turistica così la si vive 24 ore su 24 e non abbiamo altre entrate economiche per cui quello è il nostro lavoro è la nostra è la nostra vita e e quindi dobbiamo concentrarci a far sì di diciamo così accontentare l'ospite ma in realtà senza esagerare quindi alla fine dei conti noi cerchiamo di accoglierli nella appunto come abbiamo detto nella nostra vita e quindi siamo noi che cerchiamo di dargli i tempi perché la gente poi spesso dalle città arriva molto stressata molto nervosa e noi cerchiamo di di calmarli i loro tempi quindi quando arrivano lì di farli sentire a proprio agio a li facciamo sedere nel nostro ristorante a prendere una tisana e poi vanno nel loro alloggio che si calmino che provino a prendere il nostro ritmo i nostri tempi che sono collegati con la natura io spiego sempre a loro che fanno fatica poi alle volte quando nevica cosa fate ma se ci si può spostare ci si sposta e se no si rimanda perché la neve che decide la natura che come se le strade sono sporche perché nevica e nevica troppo si cerca di rimandare chiaro chiaro senti allora abbiamo parlato di state inverno siamo nel club della stagione estiva allora si è aperto tutto l'anno o solo stagionalmente allora in questo momento è aperto stagionalmente nel senso che facciamo l'estate e facciamo l'inverno stiamo facendo dei lavori perché siamo a 1300 metri sulle dolomiti quindi avendo creato gli alloggi stiamo creando un dei servizi aggiuntivi quindi stiamo proprio costruendo in questo periodo una piscina e un centro benessere in modo tale da poter allungare la stagione e quindi fare quella famosa parola che è destagionalizzare che serve alle strutture perché ormai oggigiorno c'è bisogno di incamerare denaro continuamente per per varie spese che ci sono e quindi bisogna cercare appunto di far entrare i soldi insomma costantemente ma anche per il personale perché è bello avere del personale non stagionale quindi dargli la possibilità di condividere quindi anche quella che è la vostra filosofia familiare perché è importante in una condivisione senti tra l'altro voi siete partner di Elisa Vitozzi sì ecco e c'è anche un evento il prossimo 17 settembre se può anticiparcelo nel quale sarà presente anche la stessa Elisa Vitozzi un evento molto particolare è un po' l'atto diciamo di finale di almeno per il momento della della conclusione del progetto ma sì allora chiaramente tutto è nato dal fatto che ci passa la pista da sci in struttura che è una cosa un po' anomala insomma e chiaramente l'anno scorso questo è capitato a settembre avevamo pensato ci sarebbe bello poter avere fare delle foto del nostro villaggio con qualcuno di di famoso che passi attraverso il villaggio con gli sci e quindi abbiamo pensato subito a me proviamo a chiedere a lisa se ha voglia di partecipare a questa cosa allora settembre scorso lei è venuta lì le abbiamo spiegato tutto quello che facciamo e poi insomma un po ci si conosceva però insomma alla fine lei ha accettato perché è lei poi che accetta se fare questo tipo di cose anche perché avrà moltissime proposte di sponsorizzazione anche perché ha molte proposte però effettivamente lei è una che non accetta a tutto perché ha la sua etica e quindi siamo partiti con questa cosa e che è una cosa che è una bella procedura insomma non è ok certo ok metti la maglietta grazie no no assolutamente vedremo lisa magari sul berrettino sulla tuta con il vostro simbolo ma intanto lei parteciperà no fino a quello non si può arrivare perché sono fasi diverse però lei sarà lì perché diciamo così presentiamo ufficialmente la nostra sponsorizzazione a lei quindi scusa abbiamo ancora un minuto il 17 quindi ci sarà questa presentazione ufficiale un evento aperto al pubblico diciamolo per i nostri telespettatori allora non è aperto al pubblico perché è piccolo il nostro posto ed è una cosa su invito perché dobbiamo contenere un po le cose poi col fatto che siamo sponsor fino a dopo le olimpiadi probabilmente poi creeremo qualcos'altro nel tempo certo per per accogliere anche il pubblico perché è giusto senti abbiamo siamo ai titoli di coda è stato davvero un grande piacere aver conosciuto il vostro progetto che si è concretizzato allora si può chiaramente venirvi a trovare a visitare ecco per magari i turisti di giornata il ristorante aperto anche il pubblico ci dicevi il ristorante allora il ristorante attualmente è aperto la sera anche al pubblico su prenotazione ok quindi potremmo possiamo venirvi a trovarli trovarli facilmente visibili chiaramente su internet di social ti ringraziamo tanto quindi grazie a massimiliano stoffi buon lavoro a te e tutta la famiglia grazie mille e a voi tutti grazie per la gentile attenzione a simone tolotte per la regia l'appuntamento rinnovato la settimana prossima con dormiti turismo